Lisa, sono io, papà, papà tuo! Ho radunato tutti i Simpson di tre città e ti posso comprovare che non c'è nulla di storto nei geni Simpson. Questo è il tuo prozio Chet. Avanti Chet, dille cosa fai. Gestisco un'azienda di gamberetti senza alcun successo. Oh, ma la gestisci tu, vero? Oh, sì. Ok, questo è tuo cugino di secondo grado, Stanley. Spara gli uccelli all'aeroporto. Ma tutti odiano gli uccelli, giusto? Tu sembri uno di successo. Grazie. Nelle feste recito la parte del miliardario. Almeno mi piacerebbe farlo. Forse ti saresti dovuto informare prima, eh, Homer? E tu invece? Eh, signore, mi faccio investire dalle macchine e poi faccio causa. Chiede l'emosina alle celebrità? Sono uno spione nelle carceri. Manager di una banda fischia nei fiassi. Mi fanno belle le gambe. Lisa ha ragione, non siamo altro che un mucchio di perdenti. Lo show è finito, gente, andate a casa. Ai nostri cinque dollari? Vi avrete dopo aver smammato, ora smammate!